Esiste una chiesa dei giovani che non sta di fronte o in opposizione a una chiesa di all'ultimo, ma sta dentro, dentro la chiesa, come lievito della pasta di pepata Vangeli. La testa affiora un grande desiderio di trasparenza, di credibilità da parte dei membri della chiesa. Al tempo stesso i giovani cercano educatori dal volto umano pronti se necessario a riconoscere la loro fragilità. Una cosa che è emersa è che il ruolo della donna forse non è effettivamente concretizzato, non è specificato bene cosa fa la donna, cosa deve fare la donna e in che modo apprezzare quello che fa la donna e questo punto è stato ampiamente condiviso e quindi è stato inserito nel documento e in più parti è citato la valorizzazione del ruolo della donna nella chiesa ma anche nella società in generale. Grazie. 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 Grazie.